Buongiorno e ben trovato a Davide Giacalone. Buongiorno, eccoci qua. Davide, ancora nella morsa di Lucifero. Lucifero! Esci da questo corpo! Scusa Davide, da ieri. L'esorcista anziché un... Allora, partiamo dalla prima di Repubblica. Si parla di Green Pass, i controlli. Scatta la stretta, il titolo di apertura. Dopo le dichiarazioni della ministra, l'interno della Morgese, il Viminale è costretto a precisare con una circolare. Le verifiche le farà la polizia. I ristoratori possono chiedere documenti d'identità, sanzioni fino alla chiusura. Speranza dice, duri con chi trasgredisce. A te. Allora, non so se ci hanno fatto caso, essendo colleghi al governo, ma il Presidente del Consiglio, 90 volte su 100, legge quando parla in pubblico. Voi credete che non sia in grado di articolare un discorso, come si dice, a braccio, cioè senza avere la traccia scritta? Ci riesce, però l'abitudine, della lunga abitudine del banchiere centrale, gli dice che le parole sono importanti e quindi per evitare di dover passare la giornata a dire no, non volevo dire quello, no, forse non avete capito, stavo dicendo quell'altro, uno lo scrive, è in modo tale che sia abbastanza preciso. Quindi si è pasticciato inutilmente su questa faccenda del pass, di chi esamina, di chi non esamina, pasticciato inutilmente, anche perché sono tutte cose abbastanza evidenti. Tanto è vero che qualche ascoltatore poi ha anche cortesemente chiesto, allora come fate voi a avere detto già come stavano le cose? Perché è banale buonsenso, non c'è bisogno di aspettare la circolare. Chiunque può chiedermi un documento, però solo davanti a un pubblico ufficiale sono tenuto a dare un documento. Perché me lo puoi chiedere pure tu, però io poi ti dico no, non te lo voglio dare perché non voglio farti sapere quando sono nato, io ho il mio diritto. A un pubblico ufficiale non lo posso, non posso eccepire questo. Quindi è naturale che se il ristoratore di cosa può essere responsabile nell'accesso al suo locale, avremmi chiesto se ho il Green Pass e magari aver mostrato il Green Pass, ma non può chiedermi, o non può andare oltre nell'accertamento. Se ha dei dubbi, chiama un pubblico ufficiale, cioè chiama un carabiniere, un poliziotto, un vigile urbano, chiunque, che possa accertare una cosa di questo tipo. Sennò poi si finisce nello strepitosamente comico, cioè chiedi documenti, l'ho sentito adesso al giornale orario, chiedi documenti se il certificato è palesemente imporre dei dubbi. Come per esempio se lo presenta un uomo ed è intestato una donna e che gli chiedi documenti per sapere se è lui veramente vanda. Cioè è evidente che in questo caso il falso risulta chiaro e quindi si va. La responsabilità del ristoratore consiste nell'averlo chiesto. Tutto il resto, compreso il garante della privacy, ciascuno che deve aggiungere una frase, una cosa, non serve a niente e serve soltanto ad alimentare la confusione. È ovvio che non c'è un controllo a uno a uno di tutti fatti dal pubblico ufficiale. Esistono i controlli fatti a campione, chi viene trovato a guidare senza patente la paga. Oh, faccio osservare che esistono già delle categorie di lavoratori come per esempio i tabaccai, che sono dei concessionari dello Stato che sono tenuti ad accertare che stanno vendendo le sigarette a un maggiorenne. È chiaro che se vi presento io nessuno mi chiede il documento, questo perché lo vedono a occhio che sono maggiorenne, quando insomma siamo più giovani hanno l'obbligo e se per caso vengono beccati a vendere delle sigarette a un minorenne, la pagano, ma non è uno scherzo, ci sono cose che esistono già. Basta conoscere il diritto e le cose che esistono già per riuscire a prendere le misure di quello che probabilmente potrebbe avvenire. Davide, dal Corriere della Sera ricoveri regioni in bilico, Sicilia e Sardegna a rischio zona gialla certificati controlli sui falsi palesi, proprio quello di cui tu stavi parlando. Andiamo però all'interno, siamo a pagina 9 dagli Stati Uniti. Nelle scuole americane ora infuria la battaglia delle mascherine, riaprono le aule, genitori e governatori repubblicani di sette stati si oppongono all'obbligo per gli studenti. E questo serve a ricordare che tutto il mondo è paese, così non è che ce l'abbiamo sentito noi primi. Allora, secondo voi, qual è la razio di un racconto di questo tipo? Le scuole riaprono, hanno messo le mascherine, sette governatori repubblicani si oppongono, ma perché è una questione da repubblicani e democratici, ma in generale è una questione da destra a sinistra. se appongono sette governatori repubblicani perché la norma è federale e il presidente è democratico. Ove fosse successo il contrario, sarebbe successo esattamente il contrario. Per la precisione è successo il contrario, nel senso che quando il presidente era repubblicano partì, vi ricordate Trump, dicendo, ma quando, ma che sta in raffreddore, fatela finita sulla vita. poi dopo di che la realtà ha fatto cambiare indirizzo e lì ci furono le critiche. Ora, io capisco che nell'epoca quello che Lucio Colletti aveva chiamato il tramonto delle ideologie bisogna trovarsi delle altre cose per distinguersi, però bisogna stare attenti perché quando poi si fanno distinzioni di schieramento su cose su cui possono esistere idee e distinzioni ci mancherebbe altro, ma per schieramenti sono poco credibili, quando si fanno di queste cose si perde collettivamente credibilità e il risultato è che poi diciamo così quando parli nessuno giustamente sa più che altro ascoltarti. La prima del giornale titola così Letta Salvini botte d'agosto sui migranti. Bonus a nulla titola La ragione in edicola oggi mercoledì 11 agosto e poi dicevamo andiamo negli Stati Uniti perché una notizia arrivata ieri tardo pomeriggio accuse di molestie come si dimette lo faccio per le mie figlie si è dimesso il governatore dello Stato di New York appunto l'abbiamo sentito era accusato di molestie sessuali a te Davide. Sì è stato sui giornali naturalmente così sintetizzato però credo che sia una sintesi un po' maldestra la questione è un po' è diversa perché lui ha detto nella conferenza anche qui tutto il mondo è paese ha detto la conferenza stampa i new yorkesi capiranno una questione politica certo che è una questione politica ma è ovvio che è una questione politica perché è rimasto isolato e ha ritenuto di non dover diciamo così proseguire per non subire ulteriore danno anche perché le ambizioni forse anche in parte presidenziali stiamo parlando tra tre anni però erano tramontate queste dimissioni però forse andrebbero commentate con un poco più di attenzione e cioè lui si dimette il governatore vale per la Francia per l'Italia il Regno Unito le Stati Uniti il governatore si è dimesso cuomo dicendo io sono innocente cioè io quelle cose avrò ecceduto in cameratismo avrò dice con gli uomini e con le donne però io non ho mai superato il limite se tu non hai mai superato il limite cioè se tu sei convinto di essere innocente se tu sai di essere innocente se tu sai di non avere mai superato il limite tu hai il dovere di rimanere dove ti trovi perché se no quel modo di ragionare può essere utilizzato contro chiunque in qualsiasi momento per toglierselo dalle scatole basta l'accusa cioè nel mondo in cui l'accusa funziona più efficacemente del giudizio è un mondo incivile quindi lui ha il dovere di resistere sì sì certo di prendersi anche qualche palata di palta ma di resistere se invece tu sai di essere colpevole e allora non metti su la messa in scena di mi hanno isolato e mi dimetto quindi in tutti e due i casi naturalmente non lo so perché non sono tra quelle signore che lo hanno denunciato ma in tutti e due i casi è un gesto il suo che umilia la politica e la cosa peggiore è vedere che la politica negli statuniti festeggia questa cosa perché perché è il ragionamento che noi conosciamo bene che ci portiamo dietro dal 92 in Italia in maniera maniacale e cioè ho fatto fuori un avversario ma hai fatto fuori un avversario con uno strumento che domani mattina potrà fare fuori te senza nessuna possibilità di difesa troviamo la stessa notizia anche sul fatto quotidiano la resa di Cuomo accuse ingiuste però me ne vado New York scandalo molestie troviamo anche i fatti italiani chi ha ucciso tra virgolette il CSM le dieci toghe indiziate magistrati anno nero torniamo sulla prima della Repubblica lavoro due morti cifre indegne la denuncia dell'Inel ci sono altri due vittime un operaio indiano precipitato da 8 metri a Bergamo ad Asti un tecnico morto ustionato in un negozio di surgelati Sì vorrei che si leggesse con attenzione il rapporto che la fondazione IUM ha preparato chiedo scusa l'autocitazione per la ragione ma insomma non l'ho fatto io non l'ho scritto io l'ha scritto la fondazione IUM ed è molto interessante perché il professor Ricolfi perché perché l'andamento dei morti sul lavoro in Italia è discendente da molti anni adesso lasciate perdere le variazioni mese su mese o anno su anno ma nell'insieme nel tempo sono discendenti questo non significa calma perché anche un solo morto è inaccettabile non c'è dubbio correttissimo quel titolo nel mentre i morti per lavoro discendono e l'anno scorso il 30% dei quei decessi denunciati come incidenti sul lavoro derivano da covid cioè da contagi di gente che è morta di covid non è morta accadendo all'impalcatura nel mentre quella curva è discendente però contemporaneamente quando si fanno le ispezioni di sicurezza sui posti di lavoro c'è un'altissima percentuale di irregolarità allora questo cosa ci dice ci dice che da una parte le norme che sono state nel tempo aggiornate funzionano come indicazioni presso le persone per bene le imprese per bene e infatti il risultato si vede con una diminuzione dei morti e però se i controlli fossero più serrati e più precisi probabilmente quel numero riusciremo a ridurlo e portarlo verso lo zero cosa che naturalmente tutti quanti non solo ci auguriamo ma dovremmo imporci non c'è dubbio Davide tra poco torniamo nelle pagine interne del Corriere della Sera per tornare a parlare di Jus Soli intanto andiamo a leggere i titoli sportivi Massi come sempre il calcio mercato apriamo con la gazzetta dello sport il titolo di apertura Intergeco ora è fatta oggi Milano per le visite e poi di spalla Serie A meno 10 al via la Juventus è già in testa Allegri è mercato bookmaker sicuri bianconeri in pole e poi invece sul Corriere dello Sport al centro pagina Messi ora ride Leo sbarca Parigi e dimentica subito le lacrime guadagnerà 80 milioni l'argentino supera le visite mediche e firma il contratto con il Paris Saint Germain allora pagina 10 del Corriere della Sera lo anticipavamo poco fa scontro sullo Jus Soli Salvini attacca Letta dice a settembre in Parlamento il leghista contro la Morgese sbarchi ministro assente la difesa di Orlando accuse volgari e poi a lato due idee due opinioni messe a confronto Mauro Berruto Partito Democratico membro della segreteria di Enrico Letta quegli under 18 di fatto già italiani sono pieni di talenti un errore perderli poi il sottosegretario della Lega Molteni Iter più veloce per i diciottenni ma la legge attuale non va cambiata allora il controllo delle frontiere ovviamente è nel compito del governo ma la cittadinanza e la legge sulla cittadinanza non è nel programma di governo quindi è una questione parlamentare posto ciò vorrei le polemiche infuriano perché naturalmente ciascuno cerca di caratterizzarsi però vorrei che si cogliesse il lato positivo della faccenda perché per esempio il sottosegretario Molteni che è un esponente della Lega che dice Iter più veloce per i diciottenni posto che è un passo avanti cerchiamo di guardare le cose in modo da risolverlo un problema posto che per i minorenni tutti hanno esattamente gli stessi diritti e tutele in Italia anche se non sei figlio di cittadini italiani ma ti trovi in Italia hai tutti esattamente gli stessi tutele tra l'altro i tuoi genitori hanno gli stessi obblighi perché devi andare a scuola e invece in questo caso cosa succede succede che al diciottesimo anno si può diventare se non riusciamo a sentirti Davide c'è qualcosa che non va il collegamento lo facciamo immediatamente non mi sentite? ci riproviamo è saltato tutto potrebbe essere luce di fronte si ora si ora si se il sottosegretario della Lega dice al complimento del diciottesimo anno facciamola velocemente diventano subito cittadini italiani ragazzi abbiamo l'ottantacinque per cento della soluzione già in mano cambiamo argomento Davide andiamo all'interno della Repubblica perché nel mondo politico tiene banco un'altra questione PD 5 Stelle e Leo per la sfiducia a Durignan inaccettabile il parco Mussolini letterice incompatibile col ruolo di governo il sottosegretario leghista ha proposto un intitolare al fratello del duce uno spazio a Latina dedicato a Falcone e Borsellino già che c'era poteva chiedere che la Tina si chiamasse Littoria come era Canale Mussolini esatto si ritorna alla fondazione fosse vivo pennacchi credo che una cosa di questo tipo gli darebbe un po' la mosca al naso uno come si possa fare venire in mente di titolare un parco da Falcone a Borsellino ad Arnaldo Mussolini non si sa forse è stato un atto di attacco alla Lega perché solo in questo modo può essere concepito e Arnaldo Mussolini ma Arnaldo Mussolini che ha fatto di male era solamente il fratello di Mussolini no non era il fratello di Mussolini era il prestanoma al popolo d'Italia gli ha retto la coda per un sacco di cose e voleva fondare le scuole di mistica fascista direi che diciamo un'idea più 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 di questa è difficile farsela venire in mente posto ciò e che quindi diciamo e posto naturalmente che non capiterà mai e se fosse stata il rischio che capitasse Durignan l'ha tolta dalla circolazione per ora e per l'avvenire detto questo forse le forze politiche dovranno pur fare i conti con il governo nel quale si trovano sono un governo di soggetti diversi allora la regola deve essere credo per farlo funzionare ciò che è nel programma di governo può essere contestato da questo o quello dicendo non lo stiamo facendo ma l'abbiamo già deciso di farlo quello che è fuori dal programma di governo è il parco di Latina vi garantisco che è fuori dal programma di governo e ciascuno ha tutto sommato la libertà di dire quello che gli pare e gli altri hanno il diritto di spernacchiarlo sulla pubblica piazza allora Davide nelle pagine interne del giornale intanto insomma su Durigon si concentra anche l'apertura del fatto quotidiano tre ministri contro di lui oggi si firma sul fatto l'appello al premier Draghi sul sito del giornale perché lo cacci allora dicevamo le pagine interne del giornale c'è una fotonotizia molto curiosa proprietario un signore che aveva intestate 145 autovetture di tutte le marche e modelli non ne usava neanche una perché la maggior parte veniva utilizzata da pregiudicati per commettere reati 79 mila euro di multe proprietario finto ma truffe vere nel bolognese ecco questo era un classico caso di diciamo la sua insaputa nel senso che per questo genere di truffe normalmente si prendono degli anziani pensionati diciamo con un piede nella fossa in modo tale che questo invece è un signore che ha 39 anni e che sembrerebbe ci saranno certamente totalmente ignaro della faccenda ma al di là del fatto che lui era ignaro che gli intestavano il 145 auto e che si è accorto della cosa perché gli sono arrivati 79 mila euro di multa quindi alla fine diciamo il dubbio gli sarà venuto dicendo ma io al di là diciamo del suo essere ignaro il punto che noi ogni tanto solleviamo ed è un esempio ricorrente che io faccio sulle banche dati ma come è possibile che tu hai una banca digitale del pubblico registro automobilistico e arrivi a 145 intestazioni alla stessa persona per carità è possibile maniaco ha comprato 145 auto può essere pure però diciamo che sopra la sesta la settima se non è un'azienda gli fai un controllo gli dicono scusi ma è lei quello che sta comprando più auto che stuzzicadenti quello dice sì sono io vabbè allora a quel punto domandi alla guardia di finanza se lo può permettere se lo so può permettere pace all'anima sua ma se invece come è evidente non è vero cioè è un'altra cosa questa roba qui dovrebbe ma voi pensate veramente che un paese possa fare la lotta all'evasione fiscale se non si accorge che a uno gli hanno intestato 145 macchine questa si chiama tecnicamente interoperabilità delle banche dati prima di farcela prima di occuparsi degli hacker probabilmente russi che attaccano le banche dati italiane cerchiamo di eliminare gli acari che le hanno nominate alla nascita rendendoli incapace di labrare e interoperare fra di loro Davide Giacalone grazie appuntamento da domani in Rassegna Stampa grazie a voi buona giornata e buona radiovisione a tutti